Negli ultimi sette giorni nella provincia di Caltanissetta sono stati riscontrati 36 casi di positività al Covid-19, tutti in isolamento domiciliare. 15 pazienti di Caltanissetta, 13 di Gela, 3 di San Cataldo, 1 di Butera, 1 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 1 di Serra di Falco e 1 di Niscemi. Sono stati ricoverati in degenza ordinaria 4 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela, 1 di Niscemi, 1 di Sutera e 2 provenienti da fuori provincia, mentre dimessi dalla degenza ordinaria sono 2 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia. È deceduto purtroppo un paziente a Caltanissetta che era stato riscontrato positivo al coronavirus. I guariti sono invece 91 pazienti di Caltanissetta, 78 di Gela, 46 di San Cataldo, 23 di Niscemi, 14 di Mazzarino, 14 di Vallelunga Pratameno, 12 di Mussomeli, 9 di Riesi, 9 di Serra di Falco, 6 di Butera, 6 di Villalba, 4 di Sommatino, 3 di Campofranco, 3 di Delia, 3 di Marianopoli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Milena, 2 di Sutera, 2 di Acquaviva Platani e 1 di Montedoro.